allora secondo voi con questi ingredienti che cosa preparo? ma certo l'insalata greca non sentite già il gusto e il profumo della vacanza e allora tagliamo peperone ci vorrebbe verde ma io lo preferisco giallo cetriolo fondamentale voglio dire in grecia lascio un pochino di buccia poca a rondelle sottili tanto tantissimo non abbiate paura è un cipollotto è fresco e profumato e dolce senti come crocchia vabbè mo basta però sembro max mariola ciao max pomodori allora le dosi decidetele voi è in base a quanti siete e a quanto vi piacciono i vari ingredienti cosa manca le olive greche naturalmente ora condisco e dopo metto la feta sale e olio io l'insalata la condisco con le mani la feta bisogna mettere la sbriciolata ne avrò messo un 60 grammi non di più nell'insalata greca ci vuole tanto oligiano e voilà ma cos'è questo? si ritacchi?